Si è tenuta giovedì 10 marzo all'Hotel 77 di Tolentino la campagna di ascolto organizzata dal Partito Democratico. È stata l'occasione questa per confrontarsi con il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, sul tema Le strade delle riforme. Il Governatore ha approfondito la situazione sanitaria regionale, parlando della creazione di un futuro ospedale unico. Un grande progetto di riforma della sanità marchigiana non parla solo delle strutture più piccole ma addirittura della necessità di mettere insieme quelle più grandi. In un progetto che coniughi qualità dentro un impianto infrastrutturale nuovo con dei servizi più adeguati e quelli che sono i bisogni dei cittadini e delle nostre comunità. I territori sono pronti, tutti quanti hanno capito loro di questo progetto d'ospedale unico, sta adesso ad un percorso tecnico con la Regione l'individuazione dei luoghi migliori, dei percorsi migliori per realizzarli. Il Presidente Ceriscioli ha poi fatto riferimento al futuro dell'ospedale di Tolentino. Le strutture, quelle che erano i piccoli ospedali, un futuro verso la medicina territoriale. Abbiamo fatto una scelta unica che è quella di accompagnare questa trasformazione senza togliere neanche un euro di budget a queste strutture. C'è un cambiamento sul ruolo nella sanità, non è più una sanità per acuti, è una sanità di tipo territoriale ma non meno importante, non meno significativa in termini di servizi. Che non vuole essere un impoverimento dell'aria interna ma anzi restituire alla medicina del territorio molto di più. Infine Ceriscioli si è soffermato sulla chiusura ormai imminente del punto nascita settempedano. Per punti nascita in generale c'è un accordo fra le regioni del 2010 di portare gradualmente tutti i punti nascita ad almeno mille nati. Non è una volontà numerica, corrisponde a questo fatto, reparti che funzionano, poter concentrare tutti i servizi che sono necessari, quindi meno punti ma con più sicurezza e più qualità per chi partorisce. È importante poter avere una struttura che ha il pediatra H24, di fianco dei servizi di reanimazione, quello che può servire in caso di emergenza, camera operatori sempre pronte. Oltretutto la cosa interessante è che strutture che hanno più qualità fanno meno interventi, cioè si fanno più parti naturali, quindi è ancora anche da questo punto di vista la sicurezza che ha il medico nell'operare una struttura che ha tutto dà anche più qualità da questo punto di vista. Grazie Grazie